benvenuti a tutti sono Roberta dal mio canale Vaticano la visione di una donna e siamo al secondo video sulla scomparsa di Mirella Gregori abbiamo visto che questa ragazzina di 15 anni è scomparsa il 7 maggio del 1983 per i dettagli andate a vedere il video precedente a questo era una giornata normale era uscita alle 13 e 20 dalla sua scuola che era un istituto commerciale femminile che era in via dell'Olmata in quel periodo lì era andata al bar di famiglia la conca d'oro il padre la voleva portare in macchina a casa invece fa il tragitto a piedi e in via nella sua via dove abitava c'era un altro bar il bar dell'amica di Sonia De Vito che era appunto il bar Italia con la pizzeria da baffo si ferma a parlare dirà l'amica del più e del meno sale in casa dalla mamma inizia a preparare il pranzo e a un certo punto alle 14 e 45 14 e 50 sonano al cesofono lei risponde chi sei se non mi dici chi sei riattacco a Alessandro quello delle medie ma che sei matto ora devo mangiare ci vediamo alle 15 e 30 al monumento del bersagliere a Porta Pia e riattacchi alla mamma gli dice che era Alessandro l'amichetto di cui aveva preso un'infatuazione alla scuola media però con questo ragazzo aveva avuto pochi contatti l'aveva rivista a una cena di classe poi l'aveva trovato a un piatto a Sempione perché lui abitava in una traversa e si erano salutati e lì lei aspettava il fidanzatino di allora Massimo Forti e non c'era stato più nessun contatto quindi alla mamma sembra proprio inusuale che questo ragazzo l'abbia cercata tra le altre cose si trucca Sonia l'amica le dirà che è truccata anche male scenderà al bar dell'amica si chiuderanno 15 minuti in bagno parleranno e poi lei andrà a questo appuntamento da lì comparirà per sempre nessuno la ritroverà mai più la cercheranno questa amica è molto ambigua viene accusata di reticenza alla prima archiviazione però viene assolta perché appunto lei dice che poi è andata a Villa Torloni a suonare la chitarra ma non aveva amici che suonavano la chitarra e neppure lei la suonava poi con un'altra commessa un po' di tempo dopo un addetto ai servizi segreti riuscirà a registrare il fatto che Sonia dirà all'altra non lo conoscevamo ma lui ci conosceva poteva prendere me al posto di lei quindi doveva essere sentita ma le indagini sono state sempre molto sommarie sia per la prima archiviazione che per la seconda il fascicolo aveva poco più si dice di 300 pagine non è stato sentito gli amici della chiesa il parroco della chiesa nessuno nonostante Bonarelli dopo essere stato sentito nel 93 scrive Raul Bonarelli proprio dei servizi di sicurezza vaticana farà una telefonata alla moglie dicendo che saranno quei due o tre praticoni intorno al prete coinvolti in questa vicenda lì andava interrogato andava interrogata veramente la parrocchia di San Giuseppe in Nomentana dove la ragazza aveva fatto la comunione la cresima aveva degli amici c'è un biondino che compare a più riprese la segue con una macchina ben vestita all'uscita dalla scuola gli chiede di montare in macchina appare poi insieme a un amico all'inaugurazione per il restyling del bar il giorno prima della scomparsa in questo bar per fare delle foto e la madre l'allontana viene vista tra le altre cose con un biondo passeggiare da una vicina di casa di loro stessi un biondo compare a scuola per chiedere notizie di un allieva in classe di Mirella quindi le cose sono tante ma adesso andiamo a vedere se davvero vi è un collegamento fra la scomparsa del 7 maggio 83 e quella del 22 giugno dell'83 fra Mirella Gregori e Emanuela Orlandi che vengono associate anche i fogli della scomparsa erano doppi c'è davvero qualcosa che le unisce o come ha detto invece la giudice Rando non c'è nessun collegamento tra loro? allora intanto vengono associate per la prima volta insieme il primo di agosto del 1983 dalla rivista Panorama a un certo punto si parla di tratta delle bianche e quindi Emanuela Orlandi e Mirella Gregori vengano unite insieme in questa vicenda che le terrà unite fino ad oggi attenzione perché la commissione parlamentare istituita adesso nel 2023 tratterà della scomparsa di Emanuela Orlandi ma anche di Mirella Gregori questo discorso della tratta delle bianche viene perseguito questo filo per un periodo ma gli esperti italiani e non solo italiani dicono che dagli anni 20-30 in realtà non esiste più una tratta delle bianche soprattutto italiane né per la vendita degli organi né per renderle schiave in paesi arabi o africani e ci sono testimonianze di personaggi importanti diplomatici che dicono di non aver mai conosciuto donne bianche tenute forzatamente in certi paesi quindi è una traccia un po' così però in base a questo scritto di panorama a un certo punto arrivano abbiamo già visto al bar di Mirella Gregori delle telefonate dal cosiddetto americano col tono anglosassone che aveva chiamato anche poi la famiglia Orlandi e lui dice che il padre passa la telefonata alla loro fidanzato della sorella Maria Antonietta oggi marito e questa persona li dirà che devono intercedere presso il presidente della repubblica che all'epoca era Sandro Pertini per avere la liberazione di Adda, Accia che è l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II che era chiaramente nel carcere di Rebibbia e che loro gli dice che sono tra le altre cose il fronte di liberazione turco anticristiano, turkesh e il 4 agosto dell'83 turkesh fa anche un comunicato a Lanza dove appunto di Milano che dice che Mirella Gregori verrà liberata se in pratica viene liberato l'attentatore del Papa e l'americano dirà il fidanzato di allora della sorella Maria Antonietta due anni più grande di Mirella Gregori che conosce addirittura non solo gli abiti indossati dalla ragazza e loro non l'avevano detto in via del virilino vicino a Porta Pia al commissariato di polizia quando fanno la denuncia la sera del 7 come era vistita ma anche le marche degli abiti però poi non ci saranno mai prove nette quindi per un periodo si segue la pista di questo gruppo che ha in qualche modo rapito sia Mirella Gregori che Emanuele Orlandi ma poi si vedrà che è una pista anche questa che non ha senso per essere seguita il 28 agosto del 1983 Papa Giovanni Paolo II farà un appello per la liberazione di nuovo di Emanuele Orlandi e di Mirella Gregori il legale che è lo stesso per i due casi il legale proprio Gennaro Egidio anche lui in ottobre riceverà una telefonata dall'americano dove si chiederà appunto la liberazione del terrorista in cambio delle ragazze e il 27 ottobre però l'americano dirà all'avvocato Egidio che per Mirella Gregori non c'è niente da fare morta e il corpo verrà restituito entro Natale cosa che non succederà mai però e all'archiviazione, alla prima archiviazione del 19 dicembre 1997 a Dele Rando, il giudice, dirrà che è stato un depistaggio secondo lei non c'è un'unione fra la scomparsa di Emanuele Orlandi e la scomparsa il 7 maggio dell'83 di Mirella Gregori ok? ma c'è stato un accostamento arbitrario anzi forse questo accostamento da una parte ha portato più alla ribalta anche il caso di Mirella Gregori ma diciamo che di questi due casi il 95% dell'attenzione mediatica e investigativa è andata al caso della scomparsa della ragazza cittadina vaticana Emanuele Orlandi e un 5% a Mirella Gregori ma andiamo anche a vedere ci sono collegamenti anche qui col Vaticano? anche qui molte strade riportano al Vaticano? intanto Mirella Gregori aveva fatto l'anno precedente una gita scolastica in Vaticano e gli avevano fatto delle fotografie c'era una foto di lei e il Papa solo lei e il Papa, lei sorridente che è stata per molto tempo appesa alla bacheca dell'osservatorio romano nella Santa Sede siccome all'epoca quando scompare Emanuele Orlandi ci sarà un funzionario della sicurezza che dirà a Pietro Orlandi fratello di Emanuele chiederò a quei cardinali che hanno il vizietto all'epoca cioè che cercavano minorenni per avere rapporti fisici quindi può aver colpito questa foto qualcuno e da lì qualcuno ha cercato di prendere rapporti e di circuire questa ragazza un po' la pista che si crede oggi la più probabile per Emanuele Orlandi perché lei aveva ricordate detto a un'amica che qualcuno vicino al Papa molto importante l'aveva in qualche modo circuita nei giardini vaticani c'era davvero questo giro di minorenni che affluivano al Vaticano di cui parla l'ex amante fidanzata di Renatino della banda della Magliana davvero la Sabrina Minardi in qualche modo ha detto anche la verità nella prima parte delle sue udienze e dei suoi interrogatori ci si chiede non solo ma il 15 dicembre del 1983 succede un fatto molto grave il Papa fa una visita pastorale la parrocchia di San Giuseppe in Nomentana la parrocchia frequentata dalla famiglia Gregori e il Papa concede un'udienza privata alla mamma e al papà di Mirella Gregori quando arrivano lì la madre riconosce una persona riconosce l'uomo che faceva gli aperitivi al bar e che era entrato in amicizia con Mirella e anche con Sonia e quest'uomo è Raul Bonarelli Raul Bonarelli della sicurezza del Papa Raul Bonarelli ricordiamoci che è a capo dell'inchiesta nel caso Esterman ma anche gli vengono mossi e accuse nel caso di Emanuele Orlandi per occultamento di probe verrà sempre poi assolto assolutamente quindi non si può dire niente oggi su lui però è un personaggio strano che compare tante volte la madre nell'87 ne dà anche una rappresentazione di quest'uomo lei dice che Bonarelli quando la vede quest'uomo abbassa la testa e quando escono dal colloquio con il Papa non c'è più ma non viene interrogato non viene fatto un confronto fra Sonia e Raul Bonarelli Raul Bonarelli siccome pensa che è stato convocato dai giudici a Roma per il caso di Emanuele Orlandi riceve una telefonata perché era stato intercettato il suo telefono da un superiore e gli dice non dire dell'indagine su Emanuele Orlandi in Vaticano capite le bugie a Pietro Orlandi fino ad oggi è stato detto che non c'era un fascicolo su Emanuele Orlandi nonostante molti abbiano negato e abbiano visto questo fascicolo che non era stata aperta nessuna inchiesta all'interno del Vaticano lui poi alla moglie una volta uscita gli dirà no non era Emanuele Orlandi era il caso di Mirella Gregori che ci entreranno quei praticoni due o tre che frequentano il parroco ci sarà bisogno di un giornalista di Tommaso Nelli sarà l'unico che suonerà questo sacerdote di allora che sarà evasivo che gli dirà una ragazza come tante se la ricorda a fatica il confronto fra la mamma di Mirella Gregori e Raul Bonarelli avverrà a ottobre del 93 la signora sono passati 10 anni è malata gravemente e dopo pochi mesi morirà e non se la sente di dire che è proprio lui cioè veramente c'è qualcosa in queste indagini italiane che non torna mai è come se veramente i giudici gli inquirenti non avessero una preparazione mai totale mai veramente oculata per seguire questi casi io non lo so perché io non conosco questo mondo ho fatto la scuola da giudici ma non ho mai fatto il giudice ma vorrei avere a quel punto fatto ecco io avrei fatto anche corsi privati di criminologia avrei voluto capire davvero come non sbagliare nel condurre un'indagine avrei fatto dei master privati se non me l'avessi offerti il servizio pubblico cioè non mi sarei mai io sarò che sono una persona pignolissima in qualsiasi lavoro che faccio ma non mi sarei mai voluta permettere veramente questo cioè di poter fare errori come sono stati fatti sul caso Emanuele Orlandi o Mirella Gregori cioè tu gli fai un confronto con Sonia Deviso lei lo deve riconoscere subito a caldo a quel punto e la mamma gli si mette davanti immediatamente non dopo dieci anni si veramente si va a interrogare le amiche di scuola si va a interrogare chi frequentava quella parrocchia quei biondi erano santi era un unico biondo poi c'è un'altra pista c'è la pista dell'avvocato Walter Biscotto e della collaboratrice Jessica Leone che vanno a vedere che c'è veramente in quegli anni una scomparsa di ragazze intorno a città del Vaticano in un raggio breve enorme ora in un raggio più grande solo fra maggio e giugno dell'83 scompaiono 16 ragazze ok e ci si domanda ma davvero queste ragazze erano ragazze che servivano alla pedofilia all'interno del Vaticano si è stato ammesso da una persona che era detta alla sicurezza che c'erano dei cardinali con il vizzetto addirittura c'è stato un ex componente della Magliana che ha accusato il Papa Giovanni Paolo II vi ricordate si se ne portava a letto anche più di una alla volta che può essere tutto un falso non si sa però dico non è che queste ragazze sparivano e chiaramente era molto più comodo farle morire perché poi da adulte anche se la media dell'età è 15,8 anni perché erano fra i 15 e i 18 anni le scomparse però ci si chiede forse era più semplice ucciderle che non avere il rischio che potessero parlare immaginatevi se potevano tirare nel mezzo cardinali monsignori importanti che all'interno pure dire proprio che c'era questo giro di minori all'interno del Vaticano se fosse vero perché non c'è nessun tipo di prova però diciamo che anche qui ci sono molti elementi guarda caso come nel caso di Emanuele Orlandi che riportano al Vaticano quindi forse indagini maggiori collegate alla Chiesa io le avrei fatte a partire dalla Chiesa di San Giuseppe in Nomentana veramente qui le indagini sono state troppo troppo sommarie e a Sonia testimone chiave non è stato fatto abbastanza interrogatori confronti per portarla a dire la verità che ci aspettiamo sempre che possa uscire perché questa donna non credo che potrà un domani morire se ha un peso o più pesi o più verità dentro di sé spero che un giorno le dica oppure no e quindi questi casi rischiano veramente di essere risolti lei Mirella Emanuela qualcuno gli ha tolto la possibilità di essere donne di vivere una vita serena e non è possibile che queste famiglie non possano avere un giorno la verità io guardo gli occhi di Pietro guardo gli occhi di Maria Antonietta e sono belati di una tristezza infinita queste due storie queste due scomparse non hanno rovinato solo la vita le due ragazze ma a famiglie intere con dolori incredibili il dolore della famiglia Orlandi il dolore della famiglia Gregorio e il dolore di ognuno di noi di noi madri padri che veramente abbiamo figli e vogliamo una verità la vogliamo fortemente magari le ragazze sicuramente sono già morte ma che perlomeno le famiglie possano avere dei corpi da piangere sappiano finalmente qual è la verità cosa sapete ancora del caso di Mirella Gregori scrivetemelo qui sotto vi abbraccio e il prossimo video sarà la prima parte della vita di Padre Pio fra tante luci ma anche ombre un saluto grande a tutti voi